Siamo gli unici anti-democratici, vi hanno messo sette ministeri sul tavolo per valutare con un ministero, per valutare con un ministero, sono contagiato, sono contagiato, hai occupato il ministero. Senatore Casini, concluda per cortesia, Salvini, Casini no, Casini no, questo per dire divertitevi, buon divertimento, noi torneremo a governare questo Paese per amore dell'Italia e non per amore della poltrona, quelle le lasciamo a voi, con orgoglio, perché onore e dignità valgono più di mille poltroni. Grazie, buon lavoro, viva l'Italia e viva la democrazia in questo Paese. Antecipare a governi del Presidente Conce, lo rassicuro a sereno. Grazie.